Lo start esce dalla curva e si mette sul rettilineo delle tribune, prende velocità il mezzo meccanico, parte piano, plauso RL, sfila il comando nel frattempo, Pinchilgad SM, però viene subito sopravvanzata all'esterno da Pan di Girifalco che punta dritto e si assume il comando delle operazioni. In seconda Pinchilgad a precedere Pratt-Holz, poi per un ometro SM e poi ancora Piper che va in penultima posizione. Primo riferimento cronometrico in un tranquillo 16.3, intanto il plauso RL inizia la sua risalita esterna dopo partenza particolarmente tranquilla da parte dell'allievo di Antonio Velotti. Cavalli che vanno a transitare ora i 400 passati sul piede del 32 e 9 da parte del leader, comanda sempre Pinchilgad SM, anzi no, il numero 6 di Pan di Girifalco in seconda posizione Pinchilgad SM, a precedere all'esterno Plauso RL che se la sta facendo tutta di fuori. Ora Plauso cerca di andare a chiedere strada a Pan di Girifalco dopo aver scavalcato Pinchilgad SM. Si sono formate varie pariglie nel frattempo con i cavalli che ora vanno al passaggio agli 800 passati in uno 4 e 8 da parte del leader di Pan di Girifalco. In ultima posizione il favorito di Piper con in seconda posizione la pariglia fornata da Pinchilgad SM con all'esterno Plauso RL. Il primo chilometro va via in 1,20 molto tranquillo da parte del battistrada. A seguire poi Plauso RL si fa sotto anche peronometro che la qui scia nel frattempo è stata presa dal favorito di Piper che probabilmente attenderà il rettilineo di fronte per sferrare il suo attacco. 16,3 di frazione per il leader di Pan di Girifalco. 16,3 di frazione la mossa all'esterno di Piper che inizia la sua risalita esterna. Punta dritto sul leader della corsa la frazione in 14,5 con Piper che si presenta subito ai fianchi di Pan di Girifalco.